Bisogna inchinarsi davanti alla volontà dei cittadini che votano, si esprimono liberamente e come sempre bisogna ragionare sui risultati elettorali non attribuendo le colpe, le responsabilità ai cittadini, ma cercando di capire perché nel nostro caso il referendum ha avuto l'esito che ha avuto, un esito di rifiuto massiccio, 60%, il risultato del voto è stato abbastanza generalizzato in tutta Italia con un'accentuazione nel sud, ma tutto sommato è un voto che ha toccato tutto il paese in maniera omogenea, il che significa che ci sono ragioni unitarie e di fondo che hanno spinto i cittadini italiani a votare in questo modo. Quindi il primo elemento a sottolineare è questo, assoluto rispetto per la scelta fatta dal popolo italiano. Si comincia a ragionare partendo da questo voto. Con questo voto i cittadini italiani hanno deciso che bisogna tenere le cose come stanno. Quindi da oggi si ragiona, sapendo che avremo ancora la Camera dei Deputati, il Senato, che avranno gli stessi poteri, voteranno entrambi il voto di fiducia per il governo, avranno le stesse competenze in materia legislativa. Partiamo da questo. Ovviamente la situazione è diventata complicata. Il Presidente del Consiglio correttamente ha dato le dimissioni, dando una prova, credo, di coerenza personale, di rigore e anche personale, si è assunto la responsabilità del risultato del referendum. Oggi siamo in una situazione delicata, che il Presidente della Repubblica è chiamato a sciogliere. Ora, i risultati di questo referendum. La mia sensazione è che il 90% dei cittadini italiani hanno ragionato e scelto non sulla base dei quesiti referendari, ma sulla base di una valutazione politica relativa al governo e al Presidente del Consiglio. E, come dico io, con parole abbastanza brutali ma chiare, hanno inteso dare un pugno nello stomaco al governo e al Presidente del Consiglio. Non mi pare che ci sia da fare qualche interpretazione sofisticata. Questo è il dato. Allora io non credo che questo voto sia il risultato di alcune preoccupazioni avanzate da taluni nella campagna referendaria. L'attacco alla Costituzione, l'autoritarismo alle porte, l'italicum che viola la rappresentanza, le regole democratiche. Queste a me sono sembrate francamente argomentazioni insignificanti. L'italicum un'anticipazione di autoritarismo. i cittadini italiani potrebbero avere una maggioranza parlamentare determinata dal 25% dei voti. Mi sembrano argomenti francamente assurdi. L'italicum prevedeva che se un partito non prende il 40% dei voti si va al ballottaggio. Il ballottaggio è un voto completamente diverso e per vincere il ballottaggio devi avere il 50% più 1% dei voti. Dopodiché sono voti, pure quelli. Dice no, ma per andare al ballottaggio tu hai avuto magari il 25%, ma quello non conta. Ho già fatto questo esempio. Sarebbe come dire alla Pendino, sindaco di Torino, che siccome al primo turno ha avuto il 29% dei voti, non è legittimamente sindaco di Torino perché poi al ballottaggio ha avuto il 56% dei voti. Conta il voto del ballottaggio, è evidente. Sono sempre i cittadini che hanno votato. Lo stesso meccanismo poteva valere per l'italicum, ma la Corte Costituzionale ha accolto un ricorso che è stato presentato e si pronuncerà nel merito. Quindi oggi la situazione è questa. Governo dimissionario. Le due Camere vengono riconfermate con i poteri paritari, Camera e Senato. I parlamentari rimangono più di 900 complessivamente, 630 mi pare deputati, 315 senatori. I senatori vengono eletti, hanno lo stipendio pieno e l'immunità parlamentare come tutti gli altri parlamentari. In questo momento il Capo dello Stato ha avviato le consultazioni e siamo messi di fronte a quella che è una liturgia che dal mio punto di vista sarebbe bene eliminare nel nostro Paese. Pensate, il Capo dello Stato deve ricevere per le consultazioni 16 delegazioni. Quanti sono i gruppi parlamentari presenti nel Parlamento italiano? Quindi ha cominciato ieri, proseguirà ad oltranza, vediamo se arriva a Natale, ma insomma credo che darà un'accelerata, ma ascoltare 16 delegazioni è pesante pure per il Capo dello Stato. Però il sistema oggi è questo. In Gran Bretagna è stato fatto un referendum sulla Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, si è dimesso Cameron che ha perso il referendum, dopo 48 ore c'era un altro Presidente del Consiglio. Meccanismo semplice, se è riunito il gruppo parlamentare in una Camera sola, in Gran Bretagna c'è una sola Camera che decide, e si è riunito il gruppo parlamentare del partito in maggioranza, ha designato un altro candidato Presidente del Consiglio. 48 ore, si è chiuso tutto, consultazioni, sottoconsultazioni. Credo che nessuno al mondo potrebbe dire che in Gran Bretagna c'è l'autoritarismo, c'è semplicemente una democrazia semplice, nella quale si decide e si va avanti, senza fronzoli. Ma l'Italia è un paese barocco ed appassionato al barocco e quindi noi faremo, farà a Mattarella l'incontro con 16 delegazioni e poi alla fine mi auguro possa farsi un suo orientamento. credo che all'inizio della settimana prossima avremo un nuovo incaricato per la formazione del governo. Allora, la cosa positiva in questo momento è questa, che è stato approvato il bilancio dello Stato, la legge di stabilità. Io ero francamente molto preoccupato perché se non si approvava la legge di stabilità la Campania pagava dei prezzi abbastanza elevati, perché nella legge di stabilità noi abbiamo la possibilità di coprire per 600 milioni di euro i debiti dell'EAV. Abbiamo avuto la possibilità di stabilizzare migliaia di ricercatori precari, in Campania erano 200 ricercatori all'Istituto Pascale e 150 all'Istituto Zoprofilattico. C'è stata questa risposta e quindi è importante. L'approvazione della legge di stabilità, così come è già avvenuto alla Camera, consente di superare i commissari per la gestione della sanità e del piano di rientro della sanità. Quindi eravamo fortemente interessati a che non si bloccasse il percorso di approvazione della legge di stabilità nazionale. Grazie a Dio è stato così. In questo caso in 24 ore con il voto di fiducia è stato approvato, con qualche protesta molto flebile per la verità, la legge di bilancio. Almeno un elemento di serenità e di stabilità lo abbiamo acquisito per il nostro Paese. Per il resto siamo nella palude. Sapete che non c'è una legge elettorale unica per Camera e Senato, l'italicum sarà esaminato dalla Corte Costituzionale credo il 24 gennaio e quindi bisognerà aspettare. ricordo che il Presidente del Consiglio aveva invitato le forze politiche a modificare la legge elettorale prima del referendum. Hanno detto di no tutti quanti, Forza Italia, 5 Stelle, lo dico perché adesso i 5 Stelle dicono ma è colpa vostra perché non abbiamo modificato la legge elettorale. Semplice, perché avete detto di no, che non vi volevate sedere al tavolo. È almeno questo. Almeno alcuni elementi di verità storica bisogna ricordarli. Quindi siamo nella palude burocratica. Non possiamo andare a votare, come dice giustamente Mattarella, avendo due sistemi elettorali per Camera e per Senato. peraltro quello per la Camera è sottoposto al riesame da parte della Corte Costituzionale. Quindi si dovrebbe approvare una nuova legge per andare a votare, ma non credo che il Parlamento in queste condizioni sia in grado di approvare una legge che superi le obiezioni della Corte Costituzionale. Quindi arriveremo a gennaio in queste condizioni. Nessuno di noi è in grado di prevedere quello che succede. Vediamo nelle prossime ore. Dal mio punto di vista sono interessato più a capire perché c'è stato quel voto così massiccio per il no. Ora qui bisogna fare un ragionamento di grande lucidità e di grande serietà. Ho detto che nel voto referendario per il 90% si è espresso un voto politico, non un voto sui quesiti referendari. E allora qui hanno pesato, dal mio punto di vista, alcuni punti di criticità che sono andati emergendo in Italia nel corso di questi mesi e di questo anno e mezzo. Primo punto di criticità, mondo della scuola. Ho trovato ancora in queste settimane e in questi mesi una posizione di opposizione durissima da parte di tutto il mondo della scuola. Durissima, perfino di odio. Questa è una cosa francamente clamorosa perché il governo ha investito 3 miliardi di euro nella scuola, ma è stato capace di fare una riforma che ha scontentato tutti quanti. Fino alle ultime decisioni francamente demenziali che hanno riguardato l'algoritmo, i trasferimenti di docenti dal sud al nord, non c'è dubbio che su questa riforma occorre fare un'autocritica. Non c'è da ignorare un dato così clamoroso. C'è stata, credo, un'opposizione di molta parte ai dipendenti del pubblico impiego. Nell'ultima settimana, prima della campagna elettorale, per la verità, c'è stata una misura interessante del governo con lo sblocco dei rinnovi contrattuali che erano bloccati da sette anni, da sette anni. E quindi io credo che quella misura sia stata positiva, ma l'insieme della riforma della pubblica amministrazione, di questo abbiamo parlato tante volte, si presentava come una misura quasi punitiva nei confronti del pubblico impiego. Ora, un conto è eliminare le aree di parassitismo, un altro conto è coinvolgere in una valutazione negativa tutti. Questa, a me pare, è una cosa francamente intollerabile, sbagliata. Come era sbagliata la previsione di fare un albo unico dei dirigenti pubblici, pubblici, una cosa assolutamente incredibile. Ha pesato la vicenda delle province, una condizione di caos totale. Di queste cose ovviamente avevamo parlato tanti mesi fa, qualche ministro si era perfino rizelato. La verità è che c'è una condizione di caos nella gestione di questo passaggio delle province. Hanno pesato sicuramente questi dati, che hanno toccato milioni di cittadini del nostro paese. Credo che abbia pesato un altro dato che è stato fortemente sottovalutato. Il dato della sicurezza e la questione dei migranti che si è legata al tema della sicurezza urbana. Io continuo a insistere da anni su questo tema. La gente vuole serenità, le famiglie vogliono serenità. E quando vedono in discussione la propria serenità, quella dei propri figli, la gente non guarda in faccia nessuno. Come farei io? Ora questo elemento pesa fortemente. Credo che anche la gestione dei migranti, per un verso è stata una prova di grande umanità da parte dell'Italia, per un altro verso ha comportato una gestione unilaterale che è apparsa inaccettabile a tanta parte dei cittadini italiani. E infine credo che abbia pesato il dato referentario e chiarissimo da questo punto di vista, il malessere sociale, la mancanza di lavoro. Il no più forte è nelle periferie dove c'è maggiore pesantezza sociale. Voi ricorderete che qualche settimana fa abbiamo promosso come Regione Campania l'Assemblea nazionale sul Mezzogiorno. E ricordate che avevo avanzato in quella occasione una proposta shock, come ho detto io. 200.000 giovani disoccupati da mandare a lavorare nella pubblica amministrazione, con retribuzioni differenziate in tre anni, ma una misura immediata perché la gente non può aspettare altri tre, cinque anni che ci sia una ripresa economica piena o che ci siano i primi risultati per l'investimento dei fondi europei. Da questo punto di vista alcune cose interessanti fatte dal governo sono state completamente oscurate dalla pesantezza della crisi e anche da questo sentimento di opposizione al governo, dalla defiscalizzazione degli oneri sociali, alla diminuzione delle tasse, a nuove conquiste nel campo dei diritti civili, sono conquiste importanti che si sono conseguite in questi anni. Io sono fra quelli che hanno ritenuto importante l'eliminazione dell'Imo, la tassa sulla casa, diversamente da tanti anche della mia parte politica, io la considero estremamente positiva, non solo perché il 70-80% dei cittadini italiani è proprietario di casa, ma perché ritengo che soprattutto al sud, nella maggior parte dei casi, un appartamento di proprietà è il frutto di una vita di sacrifici fatti per lasciare magari qualcosa a un figlio o a una figlia. E quindi mi pare inaccettabile tassare una vita di sacrifici. Se bisogna prendere misure di equità sociale lo si fa rispetto ai redditi, cioè la tassazione progressiva deve riguardare i redditi, non quel tanto di patrimonio che puoi acquisire, mi riferisco alla casa, non ad altro. Allora tutto questo è stato messo da parte, travolto dall'onda delle emergenze sociali che sono tutte davanti a noi. Io ritengo che senza misure straordinarie come il piano del lavoro per 200.000 giovani, noi non diamo una risposta all'altezza dei problemi che hanno dei familiari e tali.